Due piazze di spaccio sono state smantellate nel capologo da un'operazione congiunta di carabinieri e polizia. Con il coordinamento della direzione distrittuale antimafia di Catania, gli investigatori hanno acquisito elementi probatori a carico di 27 persone per le quali il GIP del Tribunale Etneo ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare. L'operazione è stata denominata Demetra e costituisce l'esito dell'attività d'indagine coordinata dalla DDA, sviluppata dalla squadra mobile e dalla compagnia dei carabinieri di Siracusa tra il 2016 e il 2019. Le attività investigative svolte dalle due forze polizie in momenti temporali differenti, dapprima i carabinieri e successivamente la squadra mobile, hanno acclarato l'operatività del sodalizio criminale dietro al traffico di sostanze stupefacenti il gruppo di Via Italia, in particolare che ha la sua base logistica operativa in Via Italia 103, interessando nel tempo anche la vicina piazza San Metodio. L'esistenza del gruppo ha permesso di accertare come nell'operazione ITEGA precedente a questa, quindi fu fatta nel 2012, le indagini hanno così documentato come l'attività dell'organizzazione si concretizzasse prevalentemente nel traffico di stupefacenti mediante la gestione di una piazza di spaccio proprio in piazza San Metodio, dove gli spacciatori ruotavano in turni prefissati per garantire agli assuntori la possibilità di acquistare la droga in qualunque momento della giornata e con pochi rischi per gli stessi che guadagnavano circa 200 euro a settimana. Il gruppo poi presentava una precisa organizzazione gerarchica all'interno della quale ciascun affiliato svolgeva compiti ben precise in cambio appunto dello stipendio settimanale. L'imponente giro d'affari che deriva dall'attività illecita risulta documentato anche da uno degli stessi sindacati all'epoca 18enne, nei cui confronti è stata riconosciuta anche l'aggravante di aver diretto il sodalizio attraverso filmati pubblicati su un social network, si ritraeva mettendo in mostra un rilevante quantitativo di denaro in banconote di vario genere e taglio riposte su un tavolo accompagnando uno di tali video con un brano musicale evocativo dell'attività illecita del trafficante Pablo Escobar. Nel corso delle indagini è stata anche accertata la presenza sul territorio di una seconda organizzazione anch'essa dedica al traffico di stupefacenti che opera prevalentemente nei pressi di Via Ignazio in Mordini all'interno di una zona della città denominata Casa e Parcheggio, da cui il sodalizio ha preso il nome. L'ulteriore associazione manteneva comunque legami con l'organizzazione di Via Italia da cui acquistava sostanze supefacenti per il successivo smercio. Anche per quanto riguarda il gruppo delle case parcheggio, la strutturazione era gerarchica, operava secondo uno schema tipico dei gruppi criminali che gestiscono il narcotraffico, cioè attraverso la predisposizione di ruoli all'interno dell'associazione, la turnazione degli spacciatori e la distribuzione dello stipendio agli associati. L'associazione criminale ha persino confezionato un vero e proprio video promozionale in cui viene fatto esplicito riferimento al sodalizio della Via Ignazio in Mordini denominato Casa e Parcheggio. Il video, nel quale compaiono alcuni fra gli indagati, oltre alle immagini del quartiere delle case parcheggio, la figura della Statua della Libertà che imbraccia un fucile nitragliatore al posto della fiaccola, è stato pubblicato su social network con lo scopo di pubblicizzare l'attività di spaccio dei stupefacenti e l'organizzazione criminale attraverso l'esplicito invito rivolto ai potenziali clienti con la frase veniteci a trovare. Parallelamente all'indagine ha accertato la consumazione di un'attività estorsiva nei confronti dei venditori ambulanti che ogni mercoledì mattina, in occasione della fiera settimanale, occupano la piazza San Metodio proprio nel Capodoro. Il presupposto di tale estorsione è rappresentato dalla necessità dell'organizzazione criminale di compensare il mancato guadagno causato dalla sospensione dell'attività di spaccio dovuta proprio all'occupazione della piazza da parte dei commercianti costretti a pagare cifre risorie dalle 20 alle 30 euro al mercoledì. Il 2016 inizia un'operazione che poi prendete in mano e accompagnate fino all'epilogo. Cos'è questo gruppo di Vietà? È un gruppo che ha avuto una crescita esponenziale, il suo volume d'affari si è allargato per tutta una serie di motivi, sia del fatto che è riuscito a prevalere come concorrenza rispetto all'attività di spaccio di altre piazze, sia anche per degli aspetti logistici collegati a queste aree urbane caratterizzate da palazzi ed inizia popolari anche con delle vie larghe che consentono tutta una serie di movimenti da parte di coloro che sono impegnati. Si erano organizzati anche in modo tale come imprenditori, quindi pubblicizzavano anche la loro attività? Assolutamente, si erano organizzati i comprenditori sia nelle modalità di organizzazione del lavoro e della loro attività con ruoli ben definiti e specifici e premiando anche l'eventuale bravura del singolo ruolo di spacciatore al dettaglio, custodio dello stupefacente per dire qualche ruolo e sia creando una vera e propria holding perché fra di loro, seppure godevano di autonomia fra le piazze di spaccio, c'era un rapporto anche di forza e di esclusività degli approvvigionamenti. Nel frattempo facevano le estorsioni ai venditori ambulanti e alla zona del mercatino il mercoledì? Effettuavano anche questo tipo di attività e la cosa particolare è che questo tipo di attività era fatta per assumere un vero e proprio controllo del territorio e per essere risarciti o indennizzati del fastidio di non poter spacciare liberamenti, una sorta di tassa per occupazione del suolo pubblico e di ristoro per lucro cessante. Un'operazione che ovviamente è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia con cui vi siete rapportati? La procura distrettuale antimafia non solo ci siamo rapportati, siamo stati guidati egregiamente e riuscita a colazionare delle varie indagini che avevano delle scansioni temporali diverse e riunendole è riuscito a fare un grande lavoro che ha permesso di disarticolare ben due piazze di spaccio grazie all'intuito della magistratura che ha saputo cogliere quelli che erano le risultanze che portavano dal territorio le forze dell'ordine. Un idolo e un pregevole lavoro e coordinandoci anche in fase di esecuzione in modo che ci sia stata una riuscita perfetta. Non ci sono più i gruppi organizzati però si stanno riorganizzando con la benedizione di coloro che già stavano in carcere? Sì, il gruppo su cui noi abbiamo operato si è negli anni molto allargato. La nostra indagine è cominciata nel 2016 ed è terminata nel 2017 grazie alle attività svolte dalla compagnia di Siracusa e dalla sezione operativa. Sulla nostra indagine si è poi innestata quella della Polizia di Stato. Sostanzialmente le attività di questo gruppo hanno messo in luce una frenetica attività di spaccio che si è negli anni sempre più allargata mostrando come questi soggetti avessero una capacità veramente imprenditoriale nel campo dello spaccio e anche grande capacità organizzativa volta a garantire un'attività di rilascio di sostanze stupefacenti a tutta la cosiddetta clientela durante tutta l'arco delle 24 ore, giorno e notte quindi con grandissima disponibilità di sostanze stupefacenti di tutti i tipi. Negli anni le loro attività si sono poi allargate garantendo un florido livello di vita a ciascuno di loro, tutto quanto in base anche naturalmente a quelle che sono le loro rispettive posizioni all'interno della loro organizzazione. Come può un piccolo gruppo crescere in questo modo in un territorio come Siracusa? Un piccolo gruppo cresce essendo stato parametrato poi ad un'impresa esattamente come un'impresa, tanta domanda quindi tanta offerta. A quel punto anche un piccolo gruppo diventa un'azienda vera e propria ed è quello che è diventato poi il piccolo gruppo che abbiamo certificato noi con la nostra indagine 2016 del gruppo di Via Italia che è diventato come hanno detto i colleghi della Questura stamattina una vera e propria holding dello spaccio.